solo solo un maestro come guido piovene poteva portarci in giro per l'italia così con un libro e con la minuziosità tipica particolarissima di uno scrittore uno scrittore critico e attento cronista di un momento storico dalle mille illusioni come gli anni 50 tra ricostruzione boom economico e ancora fresco il passaggio della guerra questa opera così innovativa nasce da una trasmissione di radio rai con lo stesso titolo viaggio in italia che piovene tenne dal 1953 al 1956 e questo suo come lo chiama lui inventario delle cose italiane lo portò a voler pubblicare anche un libro che venne edito da mondadori nel 1957 cominciò da bolzano guido piovene e proseguì regione per regione da città a città fino all'estremo sud descrivendo caratteri e tipi e tradizioni locali mitologie lingue dialetti diversità di paesaggio e di centri urbanistici caratteristiche e bellezze architettoniche che pare che lui pare associare anche alla diversità dei tratti somatici si scorge in un certo modo si riscopre in questo suo viaggio il carattere nazionale quasi mutato nelle problematiche nei vizi e nei complessi dell'italia poi piovene vede oltre dentro all'italia e a quello che nel bene o nel male non può cambiare o meglio resiste inconsciamente come può al miraggio di un mondo nuovo ma inevitabilmente fragile ciò che sembra scomparso è forse un modo di essere una gentilezza e un'umiltà una dignità di quando i poveri non volevano emulare i ricchi e nemmeno ci tenevano e non avevano il tempo per farlo e lo scrittore vede e scrive e scorge la crisi quando gli altri parlavano di ricrescita di rinascita nell'ultimo capitolo le cosiddette conclusioni del viaggio guido piovene lascia ogni colore folcloristico per un'analisi ancora oggi molto valida e ancora più mirabile col senno di poi a cominciare dagli ancora presenti lasciti del fascismo per proseguire con questa perenne adolescenza di un paese mai diventato adulto di un nord arricchito ma privo ma privo di una unità morale con il resto del paese fino agli abbondanti residui del vecchio sud inanimato e stanco di convivere con se stesso concetti che non sono facile retorica anzi sono una visione d'insieme e colpiscono queste queste parole di guido piovene che proviamo a ripetere e a ridire se dovessi riscrivere viaggio in italia vorrei rappresentare soprattutto il contrasto tra quella crosta immobile che occupa la superficie e il moto sotterraneo un moto mascherato dal succedersi dei regimi darei insomma un ritratto dell'italia un po meno piacevole meno amabile e avrei meno fortuna ma forse avrei potuto farlo già allora se avessi aggiunto a quello che già osservavo una dose più forte di un lievito così utile agli scrittori il malumore nel complesso questo progetto questo lavoro che a pochi altri che a passolini a mario soldati da egno flaiano a cesare zavattini fino ad arrivare a nanni loi al regista nanni loi oltre a lui i grandi registi del neore del neorealismo si riuscì non riuscì diciamo completamente ma a piovene piovene dette un contributo del tutto particolare in lui fu notevole la fantasia e la semplicità la semplicità di questo veneto curioso ottimo inviato grande scrittore giornalista di rango appartenente alla nobile famiglia dei piovene unico figlio unico di francesco e di stefania e stefania di valmarana che in un certo modo apprezziamo molto quando parla di casa sua quando invece di nemo profeta in patria riesce ad esprimere a raffigurare vicenza nello spazio punto dedicato a vicenza si fa notare ancor di più come scrittore e la sua formazione da giornalista fuori dal gioco diciamo che rifiuta la dinamica della notizia e l'artificio strutturale e sensazionalistico proprio descrivendo la sua città la sua astrattezza il suo modo di vedere le cose così un po per aria in modo leggero anche se vogliamo e l'eccesso di fantasia forse venivano consapevolmente mediate mediate attraverso l'esercizio di questa professione che lo metteva un po' fuori gioco era quasi un modo per migliorare gli approcci meno sentiti e soprattutto un obbligo morale diceva guido piovene il requisito del buon giornalismo è quello di essere pochissimo giornalista se non altro perché non resti immuni non resti immune da stupidaggini quali i tra virgolette colpi sensazionali che quando non sono fandonie sono cattive azioni la tecnica del mestiere che non esiste le inutili interviste al posto del conversare tra uomini ma forse in tutti i campi la buona riuscita di una cosa è quella che si fa metà con sé e metà contro di sé anche tutto questo era guido piovene